Dobbiamo concretizzare alcuni aspetti che caratterizzano questa amministrazione, che sono per esempio il rifiaggimento della strada provinciale che congiunge Castelvetrano a Triscina e quindi il rifiaggimento della segnaletica stradale e orizzontale. Le strisce blu che in qualche modo non siamo riusciti ancora a distituire e potrebbe essere non solo un grande introito per il Comune, però dà il senso dell'ordine e dell'organizzazione che altrimenti viene meno. Così come le piste ciclabili che sono ormai in via di conclusione, che sono degli aspetti che ci fanno collegare di più con una mentalità, una cultura europea, così come il canile. Noi auspichiamo di lasciare un rifugio sanitario, un canile che sia veramente da esempio, da emblema, di una comunità che dà la cifra del senso civico proprio nel trattare bene gli animali, degli animali d'affezione, così come concludere quel percorso che ci ha visto scovare 5.400 contribuenti in più che non erano conosciuti all'ufficio dei tributi, migliorare la qualità delle entrate. Insomma, tanti obiettivi, non siamo ancora a consuntivo, ma ci siamo quasi, che sicuramente hanno caratterizzato la nostra amministrazione. Ma la cosa di cui mi piacerebbe andare fiero e narrare è quella che ci sono degli aspetti culturali, di una rivoluzione culturale che magari i detrattori non parlano, che sono quelli che noi abbiamo amministrato dei cittadini e non dei sudditi, abbiamo ricercato il diritto e non mai la raccomandazione o qualcosa che ci potesse interessare direttamente e personalmente.